Se non fosse che l'astinenza da vittoria dura ormai da nove settimane, il pareggio di Grosseto sarebbe da accogliere anche con un mezzo sorriso, perché ottenuti in versione viaggio e contro una presunta diretta concorrente per i play-off. Peccato solo che la politica dei piccoli passi alla lunga non paghi. Ne sa qualcosa la regina, che Grosseto strappa un punticino, ma complice il blitz esterno del Brescia, che passa anche ad Empoli, si allontana ulteriormente dalla zona play-off. Gli Amaranto adesso sono ottavi in compagnia proprio del Grosseto. Questo significa che martedì sera contro il Gubbio nel turno infrasettimanale sarà vietato sbagliare. Ma si diceva del pareggio dello Zecchini. Un pareggio salvo, poche emozioni, tanti sbadigli, un paio di occasioni per parte, un rigore negato a Ceravolo ed un miracolo di Narciso che sbatte la porta in faccia a Bonazzoli, Grosseto-Reggina. E tutta qui capita quando la paura ti condiziona. Gregucci, tuttavia, può comunque essere moderatamente soddisfatto per la prima volta. La sua creatura non ha preso gol e questa sì che è una notizia. Merito di una difesa attenta, con Emerson e Angela concentrati al punto giusto ed un portiere, il giovane Zandrini, al debutto in B, che dimostra di saperci fare. D'accordo, è ancora un po' prematuro esprimere giudizi definitivi, ma all'esordio in maglia Maranto, l'ex Foligno non sfigura. Da rivedere invece la prestazione di Freddi e del pacchetto avanzato. La regina non punge lì davanti, Bonazzoli non riesce proprio a sbloccarsi, eppure il bomber di Asola ci prova in tutti i modi a lasciare il segno. Tutto inutile e siccome anche Sforzini non è da meno, Grosseto e Regina finiscono con l'accontentarsi di un pareggio, che fa sorridere soltanto il Brescia. E adesso, sotto col mercato, la chiusura è dietro l'angolo, così come le sorprese, sì perché quella di ieri, potrebbe essere stata l'ultima partita in maglia Maranto. Per Emiliano Bonazzoli lo cerca il Lecce, chissà come finirà.